I diversi hanno appreso delle conoscenze che forse sarebbero state anche noiose in contesti quindi in modo diverso e mettendosi in gioco perché è stato molto difficile. Abbiamo fatto le riprese con un iPad, quindi la videocamera forse sarebbe stato un po' di serviva. Allora, leggiamo la motivazione e poi la consegna, spieghiamo pure in telecamera. La motivazione è per la semplicità con cui i ragazzi che si fanno comprensivo sorrento hanno saputo che il lavoro è un lavoro complesso e a volte difficile per la redazione giornalistica. È per approfondimento e anche l'ironia con cui hanno saputo trattare i temi dell'inquinamento ambientale. tutta la nostra redazione. Noi abbiamo, a parte tutto lo staff di un canale YouTube, di un posto di televisione pubblico, Sponosi, Rosara, Gingione e tanti altri che stanno qui. Abbiamo anche un giornalista che è stato al seduto weekend, Alberto Del Grosso, che è stato venuto da Napoli e diciamo un po' tutti insieme andiamo a recensionare a questo perché era diciamo un tema ragionale e ci è spiegato questo lavoro da parte dei ragazzi e ci stava sicuramente qualcuno dietro. Io lo sapevo. lei sa benissimo il nostro studio che gli aveva insegnato e c'era e il servizio che c'era qualcuno che era stato comitato in bed e i ragazzi di Sorrento sono stati bravissimi. C'è una grande attenzibilità e per questo momento è un livello più di questo lavoro. No, 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 no.